Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento un interessante BMW 418 Gran Coupé Sport, immatricolata nell'anno 2014 con 197.000 km percorsi. Lettura in buone condizioni generali, fatto salvo alcuni segni da parcheggio. Ruote in lega omologate da 19 pollici. Portellone posteriore ad apertura elettrica. Fari LED anteriori. Vi mostro gli interni. Abbiamo un misto di pelle e tessuto, volante sportivo 3 razze multifunzione di tipologia M Sport. Abbiamo anche cruise control. Ecco i 197.000 km. Abbiamo sistema start e stop. Navigatore satellitare cartografico. Sedili anteriori riscaldabili elettricamente. Clima automatico bizzone. Cambio automatico e sequenziale. Specchio autonabagliante. Quattro alza cristalli elettrici. Vado a mostrarvi anche il sedile posteriore. Ripeto, vettura in buone condizioni generali. Disponibile in pronta consegna. Vi aspetto a Gussago, presso il nostro autosalone Pasolini Auto, per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.